Tutta la mia fiducia è risposta in te. Tutta la mia fiducia è risposta in te. Che non si dica che ti aveva invocato in vano. E poiché tu puoi tutto presso Gesù e Maria. Grazie a tutti. Vorrei finire pregando per lui. Il nostro fratello che soffre, poveretto, è perché soffre. Ha qualche bisogno. Non essere sordi al bisogno di questo fratello. Preghiamo insieme la Madonna per lui. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore.